certe volte sento tipo la... la sorella di gosua oh guarda qua è già... come ci dividiamo? no lasciala rimettila dentro c'è mia mina ho gridato attento l'ho vista te l'hai fatto una parte ti ho dato una parte ok ok c'è un labirinto qua questa stanza? luce? madonna tenetene accese quelle torce oh oh orco dio corri 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 oh no che cosiddette ma no ma no è saltato è saltato è saltato è saltato mi sa che siamo per essere licenziati per senere esatto è saltato mi ha detto mi sei fin benvenuti ai nostri passaggi disciplinari dai dai ooo ooo oddio te ne sei andato proprio c'è un mostro 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 davanti a te davanti a te vieni di qua corre AAAAAAA, aiuto! AAAAAC give. siii dievi la torch porta ehm non posso prenderla se no non c'è la paga prendo io prendo io ho preso io ho preso io Oh, aspetta un attimo Porca troia, vai di qua Vai di là, vai di là, non state qui, andatevene Oddio, è il lockhead Nooo, non li ha scoppiato Nooo Visi 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 Aiuto Mi si scarica il male porce Mi si scarica il male porco Porco dio, porco Shhh Porco dio, porco Chiudi No AAAAAH 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 Io prendo Ok, bene Ok Ah no, aspetta, aspetta, aspetta Non posso, non posso Perché non mi fa prendere questo Ah, eh, eh, eh Aspetta Prendi Prendi questo allora Mi sa che vale di più Però è statico anche quello Questo va bene Questo va bene Raga Raga, Gip è morto Rallum Raga, Gip è morto Raga, Gip è morto Raga, Gip è morto Raga, Gip è morto R AAAAAH Rpeople